Ciao a tutti ragazzi sono Beppi, sono oggi un nuovo video sul canale clan, oggi siamo qui per portarvi una mob in solo fatta in 98 secondi al nostro gira Oggi è da molto che non mi facevo sentire io con i commentari perché come avete visto abbiamo molti commentatori nuovi, io sono veramente schifoso a fare i commentari, infatti sto a fare questo in estremis eppure tardi quindi mi devo scusare con tutti voi Comunque un piccolo argomento che mi voglio prendere in questo video sono due, uno che come vedete abbiamo una grafica molto migliore in questo video perché abbiamo aggiunto un effetto strano fatto con Sony Vegas da Razor Che comunque avete visto già in altri canali e comunque sotto nei commenti se volete vi diremmo pure il nome dell'effetto E poi un'altra cosa che vogliamo dire è che abbiamo cambiato l'orario dei caricamenti dei video perché principalmente li stiamo caricando io, Razor e Frixos E gli orari saranno, il primo video sembra alle 15 invece il secondo video sarà alle 18.30 tranne per la domenica che sarà il giorno delle challenge Quindi la domenica sarà caricato solo un video e se non sarà caricato una challenge due video cioè due gameplay come ogni giorno Io con questo vi saluto, il gameplay è stato quasi per aggiungere il timer, noi ci vediamo ad un prossimo video Passate al mio canale che siamo arrivati quasi ai 1000 iscritti, ciao a tutti Passate al mio canale Passate al mio canale